Occhio alla notizia C'è riscioli a Fano TV, non ci sarà una terza ondata della pandemia L'ex governatore delle Marche analizza i numeri dei contagi E sull'ospedale unico si dice contrario allo stop Seri convoca una giunta politica e assicura Colpì di nessuno strappo dopo la mancata partecipazione al presidio davanti all'ospedale di Muraglia Ma chiede un incontro con i sindaci dell'area vasta Ecco le ricevute dei versamenti A mostrarle in diretta su Fano TV è Cristian Marinelli, il ristoratore multato Che ha scritto al presidente Mattarella Ora quei soldi il comune li dia in beneficenza Il Conte Pino li invita i pesaresi a fare la vacanza a Pesaro In pochi giorni sono arrivate decine di prenotazioni Posso dire che è un successo perché abbiamo una quindicina di persone Fino a ieri c'erano due o tre Come sarà il Natale dei fanesi con tanta solidarietà Dice l'assessore Lucarelli Intanto in piazza arriverà l'albero di Natale Vero Mentre quello di cartone farà da biglietto da visita all'ingresso nord della città Sarà il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ochchielli L'ospite della puntata in diretta di Primo Cittadino Che andrà in onda subito dopo il nostro telegiornale Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17 Covid Hospital, il no al blocco dell'ospedale unico E un'eventuale terza ondata della pandemia Sono alcuni dei temi toccati durante la diretta di questa mattina Da Luca Ceriscioli, ex governatore della Regione Marche Che tra l'altro si è dichiarato d'accordo con la gestione dell'emergenza da parte di Acquaroli Una terza ondata della pandemia è molto meno probabile della seconda che poi c'è stata Lo ha affermato Luca Ceriscioli, ex governatore della Regione Marche In una intervista rilasciata al direttore Marco Ferri Durante la rassegna stampa di questa mattina Un'affermazione è dettata dal fatto che spiega Il prossimo anno probabilmente avremo il vaccino Che andrà fatto prima gli operatori sanitari In prima linea nella lotta contro il virus Ed aggiunge poi lo farò anche io L'ex presidente, ora tornato ad insegnare nelle scuole in didattica a distanza Si è espresso anche a riguardo del blocco del progetto per l'ospedale unico L'investimento da 250 milioni, dice, non impedisce di riattivare gli altri ospedali Il problema principale rimane reperire il personale medico Pensiamo a quello che ha subito l'epoca in marchigiana Dopo il primo lockdown e il secondo lockdown Poter mettere in moto un investimento da 250 milioni di euro In edilizia per i prossimi tre anni Che traccina con sé almeno altri 15 settori economici Anche se io non fosse convintissimo dell'ospedale Dovrebbe essere convinto di quanto è importante Mettere in moto un investimento del genere in questo momento Perché qualunque altra strada Spiegherà anni prima di partire I professionisti devono poter lavorare insieme Dentro un'unica struttura E' unico fra Pesaro e Fano Non ha chiuso Urbino, non ha chiuso Percola Quindi è unico in questo senso Ceriscioli inoltre nonostante si trovi d'accordo Con la gestione della pandemia dell'attuale governatore Fa comunque un appunto Si deve scegliere quali strutture sono destinate al covid e quali no Altrimenti si corre il rischio di sporcarle tutte Mentre sull'ordinanza anti-assembramento di Acquaroli dice Che è stato seguito l'indirizzo dettato dal governo Tutto ciò che crea assembramenti va evitato il più possibile Seppur senza esagerare Aggiungi inoltre che per gestire le quattro aree vaste e Asur E' necessario un intervento dall'alto per far sì che si coordino tra loro Toccato anche il tema del covid hospital Che come da previsioni dice Ceriscioli Si è rivelato utile e poco dispendioso per la regione Oltre che costruito in tempi record Civitanova aiuta a tenere gli ospedali più puliti Ma se non si sceglie quali adibire al covid e quali no Rischiamo di ritrovare i contagi in tutte le strutture Primo si è dimostrato che quell'investimento serviva come era portato per me Sapendo che poteva arrivare la seconda ondata della pandemia Ma anche altri fenomeni per il futuro Secondo avendo finanziato con 42 milioni a giugno L'ampliamento dell'offerta negli ospedali Abbiamo fatto vedere anche chi credeva Che fosse quella la soluzione Perché per adattare gli ospedali Sono molto più lunghi Di quanto ci potesse volere Per realizzare l'ospedale alla tira L'ospedale alla tira è finalmente funzionante E fatti adottivi Negli ospedali non ci sono Perché i tempi inevitabilmente Sono molto più lunghi Immaginare di fare gli impianti Nell'ospedale esistente Sono tutte attività che portano via più tempo E di ospedale unico Ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Fano Massimo Seri Che sabato scorso ha deciso di non partecipare Al presidio indetto Organizzato da Matteo Ricci Davanti all'ospedale di Muraglia Con il Partito Democratico Aggiunge Seri Nessuno strappo E non è possibile bloccare un investimento Di 250 milioni di euro Non ho partecipato perché Ho reputato quell'iniziativa Un'iniziativa di parte Io penso che sia necessario condividerle Il sindaco di Fano Massimo Seri Risponde a coloro Che hanno contestato la sua assenza Sabato scorso Al sitino Organizzato da Ricci Di fronte all'ospedale di Muraglia E' importante manifestare Prendere una posizione sulla sanità Ha spiegato il primo cittadino Ma la pandemia E le dichiarazioni del governo regionale Di centro-destra Ci portano a fare nuove riflessioni Guardando le problematiche Dell'intero territorio E sono convinto che la forza La dà anche l'unione E il condividere le strategie Quando questo non avviene Bisogna dare anche qualche segnale La mia non presenza Aveva questo senso Non è una divisione Con una forza politica o meno Ma c'è un'esigenza Di rafforzare i rapporti Tra le stesse due città Fano-Pesaro Ma anche tra il territorio Della costa E dell'entrotere Quando parliamo di sanità Prosegue Seri Dobbiamo essere coesi E fare un ragionamento complessivo Ritengo anche che la prima iniziativa vera Che coinvolga tutti Deba essere la convocazione Dell'assemblea di aria vasta Dei sindaci Perché in quel momento Ci si confronta E si parla a 360 gradi Manifesto anche una preoccupazione vera Perché non vorrei che Da una parte si spinga Per realizzare una struttura Dall'altra si spinge Per annullare determinati percorsi E va a finire questo territorio Quello che rimane stretto Nella morsa Perché qui c'è un'esigenza Di recuperare anche del terreno perduto Un ruolo che è questo territorio Quando parlo di Fano Non parlo di Fano-Città Ma parlo delle due vallate Invece sullo strappo Con il Partito Democratico Su cui si è discusso E in questi giorni Arriva la smentita del sindaco Non c'è una divisione Gli intenti all'interno della maggioranza Sono più i titoli giornalistici È chiaro che abbiamo avuto Delle sfumature diverse Sugli intendimenti di come organizzare Determinati momenti E adesso diamo un occhiato Come facciamo in tutte le edizioni Del nostro telegiornale Anche alla situazione della pandemia Nella regione Marche Sono 11 le persone decedute Al coronavirus Registrate nelle ultime 24 ore A questi però ne vanno aggiunti Altri due Che risalgono ai giorni scorsi Per i quali è stata definitivamente accertata La diagnosi di Covid Tra le vittime sei donne Sette uomini Tutte con patologie pregresse Ci sono anche due pesaresi Un anziano di 79 anni E una donna di 84 In calo nell'ultima giornata Il numero invece dei positivi Sono 161 in tutta la regione Marche Pari al 25,4% Di 633 tamponi Eseguiti nel percorso Nuove diagnosi Come vedete dal cartello Oltre la metà dei casi Sono stati rilevati Nella provincia di Ancona Cresce il numero dei degenti In terapia intensiva Che passano da 88 a 90 Quindi due in più rispetto a ieri E i pazienti in semi-intensiva Da 137 a 140 Al Covid Hospital di Civitanova Sono ricoverate 63 persone Adesso passiamo invece ai controlli I controlli eseguiti Dalle forze dell'ordine In questo fine settimana In provincia di Piesel Urbino Fa sapere la prefettura Sono state in tutto 16 Le violazioni delle misure anticontagio Contestato anche un illecito Ad un titolare di un esercizio commerciale I carabinieri di Ancona Hanno sanzionato invece 23 persone Sorprese a violare il coprifuoco O a circolare senza un giustificato motivo Controlli anche nel Maceratese Dove i militari hanno elevato 28 sanzioni Per il mancato uso della mascherina In osservanza dell'obbligo Di non spostarsi fra i comuni E infine per aver circolato Senza giustificato motivo Tra le 22 e le 5 del mattino I sanzionati avranno 5 giorni di tempo Per saldare il conto 280 euro Oppure l'importo salirà fino a 400 Ha già pagato le multe ricevute Dai suoi commensali Il ristoratore di Sant'Andrea in Villis Cristian Marinelli Che ora chiede al comune Di devolvere l'incasso Alla Caritas diocesana 12 multe per un totale di 3.360 euro E questo l'importo complessivo Pagato dal ristoratore Cristian Marinelli Sanzionato insieme a 11 commensali A metà novembre Per aver tenuto aperto Domenica pranzo Il suo locale a Sant'Andrea in Villis Due giorni prima infatti Il governo aveva annunciato Il passaggio delle marche Da zona gialla ad arancione Con la conseguente chiusura Di bar e ristoranti Una decisione non condivisa Da Marinelli E da tanti colleghi Del settore Che con poco preavviso Avrebbero dovuto avvisare I clienti già prenotati E di sfarsi del cibo Già acquistato Tant'è che alcuni Avevano deciso di donarlo Lui invece aveva scelto Di aprire comunque Le porte dell'attività E di scrivere Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Per chiedere di liberare Roma Dai criminali Che governano l'Italia Un concetto che ha ribadito Anche questa mattina Nel collegamento in diretta Con lo studio di Fanu TV Questo non è un modo Di governare un paese Cioè non è serio Cioè dobbiamo Quando diciamo Che dobbiamo essere Tutti d'accordo Per diciamo Aiutarci E far finire questa pandemia Dobbiamo essere tutti d'accordo No Il parrucchiere no L'estetista sì Quello che fa i tatuaggi sì Può stare aperto La chiesa è aperta I mercati sono aperti Cioè chiudiamo tutti Io sono d'accordissimo A chiudere Stiamo un mese Due mesi dentro casa Rimbocchiamoci le maniche E basta Ne usciamo Ma così io mi sento preso in giro Al termine del collegamento Abbiamo raggiunto Marinelli E durante l'incontro Ci ha raccontato Anche della riconoscenza Dimostrata dai commensali Sanzionati il 15 novembre scorso Sì esatto A parte Mi hanno chiamato Per ringraziarmi Qualcuno mi ha lasciato Anche una lettera Nella cassetta delle poste Che fa molto molto piacere Ma io ripeto Come avevo detto Quel giorno L'avrei fatto volentieri L'ho fatto volentieri Perché la mia Era una protesta Di persona stanca Di queste cose E quindi dovevo Fare qualcosa Anche se mi è costato Ma va bene Insomma Si fa C'erano più clienti Però quel giorno Ma alla fine Sono stati multati Solo quelli Fuori comune Esatto Esatto Di questo Ci sarebbe da parlare Ma forse Cosa vogliamo aggiungere Non aggiungiamo niente Dai va bene così Cioè se non si può fare Io penso che non si può fare Comune di Fano Comune di Pedro E le iniziative di Christian Non si fermano qui Perché sabato scorso Ha inviato una richiesta Tramite PEC Al comune di Fano E all'assessore Cucchiarini Visto e considerato Che la mia È stata una protesta Civile ed educata Si legge nel documento E visto il modo In cui veniamo trattati Umiliati Avvisati Con poco margine Di organizzazione Per tutti i DPCM emessi Chiedo che la somma Da me versata Sia devoluta In beneficenza Mi sono sentito dire Avete ragione È un momento difficile Allora io chiedo questo Siccome che abbiamo ragione È un momento difficile E io non ho pensato Per un minuto Di fare Diciamo Come si dice Di fare protesta Per le multe O di fare ricorso Per non pagarle Le ho pagate tutte Subito Però vorrei che questi soldi Il comune Se può Gli dia in beneficenza Magari non so Alla Caritas Dove ci sono persone Che più bisognone di noi In questo momento difficile Che è difficile Anche mangiare Poter aiutare queste persone Vediamo Ho scritto al comune Questa cosa Adesso vediamo Cosa mi rispondono Ovviamente A Pesaro Siamo tornati Dal conte Alessandro Marcucci Pinoli Che nei giorni scorsi Sempre qui su Fano TV Aveva lanciato L'invito Ai pesaresi A andare in vacanza Nel suo albergo E guardate come è andata Grande successo Questa sera Qui all'Alexander Museum Palace Hotel L'albergo del conte Pinoli Che ha aperto le porte Ai pesaresi Invitandoli a venire A cena qui Siamo andati a sentire Come hanno mangiato Entusiasti del servizio Ricevuto I diversi pesaresi Che hanno risposto All'invito del conte Alessandro Marcucci Pinoli Hanno decisamente apprezzato La nuova formula Messa in campo Dal noto albergatore pesarese Che sabato ha aperto Le porte del suo albergo L'Alexander Museum Palace Hotel Per invitarli a cena E a soggiornare Gratuitamente In struttura Il pacchetto prevedeva Che i clienti pagassero Soltanto il costo Della cena Offerti invece La notte E la prima colazione Un'occasione Che i cittadini pesaresi Non si sono lasciati sfuggire E intanto Le richieste Continuano ad avanzare La strategia Messa in campo Dall'albergatore Andrà avanti Anche durante la settimana E c'è già Chi ha chiesto Di alloggiare Anche per più di una notte Posso dire Che è un successo Perché abbiamo Una quindicina di persone Fino a ieri C'erano due o tre E quindi insomma Su quindici persone Quasi tutte Sono di peso Che hanno accettato Questa mia offerta Di fare la cena Prendendo la camera Perché è obbligatorio In assoluto Che noi possiamo dare La cena Solo agli alloggiati Quindi tutti Hanno qui la camera Sono alloggiati in albergo E tutti hanno le mascherine Quando si alzano Tutti ci sono Sanificazioni Ci sono distanziatori Cioè la cosa che tengo di più In assoluto È proprio Questa sicurezza Per la salute Spero che vada sempre meglio E siccome Mi mettono nel pane Gli altri Mi auguro anche Che aprino invece La possibilità Di tutti i ristoranti Di aprire Perché Non voglio essere Solo io Questo lei lo ha detto Più volte Lo ha fatto anche Per non licenziare I suoi dipendenti Un modo per tenere aperti I suoi alberi Bellissimo Per non mandarli In cassa integrazione Licenziare Non si può Credo a fine di marzo Ma io Non ho mai licenziato nessuno Solo che se chiudessi Gli alberghi Se sei alberghi Andrebbero tutti In cassa integrazione Cioè A 600 euro E chissà quando Perché non si sa Quando li prendono Dopo Ma come fa Una famiglia A vivere con 600 euro Sul tavolo Un menù completo A scelta A base di carne O di pesce Allora la cena È tutto perfetto Veramente tutto buono L'ospitalità Veramente Molto molto Calda E siamo qui Perché volevamo Fare una serata diversa Siamo stanchi Di stare a casa Sinceramente Questa è una grande Opportunità Secondo me Innanzitutto Mi sembrava doveroso Portare il nostro Contributo Seppur piccolo Fare la nostra parte E anche qui Dall'amico Nani Perché Da quando ho saputo Dell'iniziativa Non mi sono potuto Tirare indietro Credo che In questo momento Così difficile Ognuno di noi Debba Contribuire Nella nostra Piccola realtà Perché tanto comunque Portando chi può Il proprio contributo E noi siamo qui a posto Veramente un trattamento super Una camera Stupenda Un trattamento Cicoccola Ci ha fatto anche l'omaggio Direi che più di così Non si può chiedere Siamo venuti perché Ho visto l'iniziativa E l'ho chiamato Ho detto Io voglio partecipare A questa iniziativa Quindi posso prenotare Ancora Certo Quindi ecco Mi sembra Giusto aderire alla causa Come avete mangiato Signore Abbiamo iniziato Adesso Come antipasto È tutto bene E il Codacons Offre aiuto legale Marchigiani Sanzionati per Inosservanza Dei DPCM In molti casi Spiega l'associazione Le multe elevate Sono ingiuste Perché non tengono conto Delle esigenze Degli utenti E delle motivazioni Che hanno determinato Gli spostamenti Per non parlare Della confusione Creata dalle norme Le multe Ricorda il Codacons Possono essere impugnate Dinnanzi Le autorità competenti Gli interessati Sia esercenti Che privati Possono avvalersi Di un team di legali Specializzati in materia Che fornirà informazioni E assistenza E vedete Il cartello Con il numero Da chiamare Un incendio È scoppiato Oggi pomeriggio Intorno alle 16.30 In un garage Di una palazzina Rip di Trecastelli In provincia di Ancona Le fiamme sono divampate Per cause accidentali Da un elettrodomestico Il fumo Ha subito Invaso Attraverso il vano scale Tutto l'edificio Costringendo ad evacuare Sei famiglie Residenti E altre tre Della palazzina accanto Sul posto I vigili del fuoco Di Senigalli Ancone Carabiniere La polizia locale Al momento Non si registrano Né feriti Né intossicati Ma sono in corso Le verifiche Sull'agibilità Degli appartamenti E sempre nella diretta Di questa mattina Della nostra rassegna stampa Abbiamo parlato Anche degli appuntamenti Natalizi A Fano E l'abbiamo fatto Con l'assessore Etienne Lucarelli Il Natale Nell'epoca del covid Inizierà virtualmente Il 3 dicembre Quando scadrà L'ultimo decreto Del presidente del consiglio Saranno fissate Le nuove disposizioni Anticontagio Valide per il periodo Delle feste La stessa data Potrebbe coincidere Con l'accensione Della bete Nel centro storico Di Fano L'albero Verrà posizionato Domani In piazza 20 settembre L'ha annunciato Questa mattina L'assessore al turismo Etienne Lucarelli Sarà un bellissimo Abetto normandiano Di 13 metri Come sempre Regalato da una famiglia Fanese Quest'anno la famiglia La famiglia Carletti Federica e Davide Ce l'hanno regalato Pensando al babbo Che è venuto a mancare Qualche tempo fa E l'hanno voluto Donare alla città E rappresenterà Il nostro Natale Come anche L'albero del signore Seri Che alla fine Anche in vista di un'apertura Verrà installato Nella nostra città Ma abbiamo pensato Ad una porta d'ingresso Per far sì Che tutti coloro Che passeggiano Intorno alla nostra città Possano in un qualche modo Ammirarlo E magari Non so Avere la voglia Di entrare all'interno Della città Sarà posizionato In zona Pino Bar Novità Anche nella zona del Pincio Dove verrà allestito Un villaggio di Natale Senza mercatini Ma con un presepe Curato dai maestri carristi Aiutando così La categoria Che rimarrà ferma Per l'edizione Di gennaio-febbraio Del Carnevale di Fano Inoltre Mentre a Pesaro È stato definito Un percorso A bordo di un trenino Turistico A beneficio del commercio A Fano Saltano sia l'idea Di utilizzare Questo mezzo Tanto amato dai bambini Sia le sculture di sabbia Si lavora invece Su iniziative Progetti improntati Sulla solidarietà E Lucarelli Ha lanciato Un nuovo appello Ai fanisi Affinché vengano fatti Acquisti locali A Pesaro Si sta pensando Anche ad un trenino In realtà Fano lo aveva Lo scorso anno Lo abbiamo fatto Lo scorso anno C'era in programma Ovviamente Di portarlo avanti Anche quest'anno Purtroppo abbiamo ritenuto Che con il discorso Coronavirus E con la necessità Di contingentare Gli spostamenti E quindi le difficoltà Non fosse possibile Questa mattina Grazie anche ai volontari Della Proloco È stato posizionato Il basamento Della Bete Ed è iniziata L'installazione Sia delle luci Lungo il corso Che della filodiffusione I fanisi però Se da una parte Avranno comunque Diverse attrazioni Per le festività Dall'altra Dovranno rinunciare A feste in casa Veglioni E a un'altra tradizione La tombola Un gioco Che per decenni Ha tenuto compagnia Intere generazioni E riempito i locali Della cooperativa Tre Ponti Ecco secondo lei Se il governo Dovesse decidere Di allentare Un po' queste misure Si potrà giocare A tombola Nel periodo Ma io penso Assolutamente di no La tombola La ma è per quest'anno Anche perché Naturalmente Questi fanno Assemblamenti Anche se Mantenessimo Come vedi All'esterno Ha montato anche Un tendone Naturalmente In emergenza Avere la possibilità Di fare eventi Diciamo In locali chiusi Riscaldati In periodo invernale Era importantissimo Eppure nemmeno Quella può essere Utilizzata Quanto pare È vuota Il presidente Vartolucci Ci ha poi raccontato Delle difficoltà Che la cooperativa Sta affrontando A causa della pandemia E delle limitazioni Imposte dal governo Noi paghiamo qui Un affitto Anche se qualcuno Dice che è Però spendiamo Mille euro al mese Naturalmente Ti mi dirai Ma questi tre mesi Voi pagate gli affitti Noi paghiamo L'affitto Il comune Perché purtroppo Le fatture arrivano E bisogna pagarle Non ho difficoltà A mettere Che praticamente Abbiamo dovuto Stoppare i mutui Questo anno Bisogna rimanere in piedi Perché se cadiamo Per terra Ci facciamo male E adesso apriamo L'album di famiglia Di Fano TV Per festeggiare I 60 anni di matrimonio Di una coppia Formata da Mario Uguccioni E Giuseppina Volpini E anche loro Sono di Tre Ponti Tre Ponti di Fano E adesso invece Le congratulazioni A tre neo laureate Che hanno discusso Le tesi online Cominciamo da Eleonora Simoncini di Fano Che ha conseguito una laurea In logopedia Con 110 elode Stesso voto Con l'ode anche Per la fanese Federica Di Benedetto Laureata in International Tourism And Destination Management E poi Martina Baldelli Anche le fanese Che si è laureata Sempre con 110 elode Diventando igienista dentale Tra l'altro oggi Martina festeggia Anche il suo 24esimo compleanno Complimenti A tutte e tre Subito dopo di noi Missione Salute E poi in diretta Con Primo Cittadino E il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli Grazie per essere stati con noi Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti